Buonasera da Fabio Pasini, ben ritrovati con il TG Nord, giornata di ballottaggi elettorali per le amministrative che si sono svolte ieri e oggi per decidere 11 sfide, il centro-sinistra ha fatto il pieno vincendo tutti gli spareggi per questa tornata amministrativa. La sinistra vince a Roma, in verità questo mi interessa relativamente a Brescia e Treviso, così scrive su Facebook il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini che aggiunge che per la Lega deve essere un punto di ripartenza, più umiltà, più unità e più coraggio, meno parole e meno polemiche, sono convinto, aggiunge Salvini che i problemi del Nord mai così gravi abbiano nella Lega, una Lega più unita, cattiva e concreta, l'unica soluzione. Voglio dire lo stesso grazie di cuore ai candidati e ai militanti, la battaglia continua, io ci sono. Così Matteo Salvini su Facebook.